Ciao, io sono Gregorio, sono del gruppo Oltremercato e noi in questa fiera portiamo un'esperienza, un gioco sulla moneta sociale, quindi un possibile utilizzo della moneta sociale, in questo caso all'interno della fiera, per in qualche modo provare a fare degli scambi di beni, e l'idea potrebbe essere anche quella di servizi o di competenze, non senza usare l'euro, ma utilizzando l'euro e questa moneta sociale, che nel nostro caso è rappresentata da dei tagliandini a forma di orologio, perché pensiamo sia molto importante la relazione tra il valore dello scambio e il tempo impiegato per il prodotto stesso. Quindi proporremo ai produttori in fiera di accettare questi, che sono una sorta di buono sconto in questo caso, questi tagliandini come complemento appunto degli euro, con l'idea di incominciare anche a far rete tra questi produttori, tra coloro che potrebbero utilizzare questa moneta, con l'idea anche di utilizzarla fuori, dopo la fiera, quindi di iniziare a utilizzare un'altra moneta, che a quel punto non diventa più una moneta complementare all'euro, quindi uno sconto sull'euro, ma che possa anche diventare in qualche modo, che possa andare a sostituire in futuro, insomma, quindi una moneta alternativa a tutti gli effetti, quindi oggi è soltanto un gioco per provare che questa cosa si può fare e poi sul farlo in futuro si vedrà, è una cosa che dobbiamo costruire, insomma. Grazie